30 opere che rimandano alla simbologia eucaristica diffuse sul territorio comasco. Sono i dipinti e gli affreschi al centro del percorso proposto dalla mostra Pane e Vino, traccia del mistero eucaristico nella pittura a Como dal XVI al XVIII secolo, che verrà inaugurata l'8 maggio e resterà nel Duomo di Como in occasione di Expo 2015 dal 9 maggio al 31 ottobre. È una mostra a pannelli con alcune opere che percorrono nella pittura a Como dal XVI al XVIII secolo questo tema dell'eucaristia. Pane e vino quindi letto in una chiave simbolica. Si vuole invitare a fare un percorso, a muoversi lungo il territorio del comasco, perché la mostra dall'Alto Lago alla Valintelvi, e visitare le chiese dove queste opere si trovano. Una sorta di invito al pellegrinaggio, insomma, alla scoperta delle opere proposte seguendo il filo conduttore della rappresentazione dell'eucaristia. La mostra fa parte del più ampio progetto Pane e Vino non ci mancava, uomini e merci in movimento tra campi, botteghe e chiese nel comasco, promosso in occasione di Expo dal Centro Studi Nicolò Rusca. Un progetto che propone tra le altre cose una guida online per un itinerario alla scoperta dell'assistenza a Como dal Medioevo all'età moderna e un database della flora a comasca fra il 1907 e il 1938 attraverso la valorizzazione dell'erbario realizzato da Giuseppe Fabani con l'esposizione di una ventina di tavole nella mostra in programma a Villa Bernasconi a Cernobbio dall'11 luglio all'11 ottobre.